12 febbraio 2020 siamo a bormio primo giorno a bormio e qui stiamo prendendo l'ovovia che ci porterà a bormio 2000 è il secondo video di questa giornata e quindi anche la seconda discesa qui siamo già arrivati a bormio 2000 e in questo video vedremo appunto la discesa da bormio 2000 fino a bormio 1225 metri facendo prima la pista g genziana e poi gli ultimi due tronconi della mitica pista stedio prima però mi tocca racchettare un po e ve lo risparmio e siamo arrivati all'imbocco della pista genziana pista rossa sulle cartine g e si parte video in 4k 30 fps super view fatto con la gopro 07 black a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una veloce occhiata al tratto di pista che abbiamo appena fatto e si riparte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, contividete sui social i video che preferite. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. E questa stradina ci sta riportando sugli ultimi due tronconi della pista Stelio, ovvero A3 e A4 sulle cartelle. E qui ormai ci siamo, siamo sulla pista Stelio, pista incredibilmente solo rossa. Attenzione, solo per sciatori esperti ci dicono i cartelli, quindi questo muro, altro che rossa, questo è un muro da pista nera della Stelio. Breve pausa per vedere indietro i tratti che abbiamo già fatto. Qui siamo tornati sulla Stelio. Altio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E laggiù, sulla destra, dove c'è lo spiazzo erboso, vedo già l'hotel Funivia dove alloggia. Grazie a tutti. E siamo tornati al punto di partenza, ovvero alla Funivia di Borneo, come devo dire è Nuovovia. Grazie a tutti.